Buongiorno a tutti, ne approfitto anche io per salutarvi. Sono contenti di vedervi numerosissimi, abbiamo adesso 130 partecipanti, quindi siamo, diciamo come vi ha detto Rita nell'introduzione, questo seminario online rientra nell'ambito del corso Soft Skill per i Leadership, ma abbiamo deciso di aprire comunque la partecipazione anche ad altre persone potenzialmente interessate e a vedere dal numero di partecipanti ce ne sono molte potenzialmente interessate, quindi siamo contenti di averlo fatto. Allora faccio una brevissima introduzione sui contenuti del modulo e poi vado subito a raccontarvi di cosa parliamo oggi. Il modulo quarto del corso Soft Skill per i Leadership affronta il tema del ruolo degli leader nella promozione dell'innovazione e nel facilitare il cambiamento. inquadrando quindi le azioni all'esterno delle organizzazioni per comprendere il cambiamento e tessere delle reti di relazione, ma anche all'interno per quasi vendere l'innovazione all'interno. Ci riferiamo al fatto che, a come si possa facilitare e introdurre il cambiamento organizzativo. Sappiamo che oggi quando si parla di cambiamento e di innovazione si parla soprattutto di digitalizzazione, ma digitalizzazione non vuol dire adottare meccanicamente qualunque nuova tecnologia. Bisogna introdurre il cambiamento e quindi anche la digitalizzazione all'interno di un quadro coerente che sia proiettato nel futuro e che consideri anche tutte le componenti organizzative. Quindi il tema del webinar di oggi. Il webinar di oggi è dedicato quindi proprio alla progettazione e all'attuazione dell'innovazione della pubblica amministrazione. Come sapete e come avete visto vedremo l'esperienza di innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che è una delle buone pratiche segnalate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione pubblicata a ottobre 2017. Quindi in particolare con la dottoressa Alvaro che è direttore delle tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vedremo proprio quali sono le strategie di pianificazione e programmazione adottate dall'Agenzia entrando anche nel merito però del metodo applicato, quindi del coinvolgimento in tutte le fasi degli attori, degli stakeholder esterni e anche degli attori interni. Come sappiamo per progettare e soprattutto riuscire a portare avanti l'innovazione è indispensabile tener conto di molti elementi. A quello che ci sembra, l'Agenzia delle dogane sta facendo un ottimo lavoro, come sanno i partecipanti di questo corso, è disponibile anche un'intervista alla dottoressa Alvaro sempre in questo modulo. Dottoressa non la sentiamo, forse il microfono è staccato? Vediamo, aspettiamo qualche istante, no non la sentiamo ancora, un attimo, allora riprendo io la parola, forse aveva disattivato il microfono, deve riattivare il microfono dall'icona in alto, vi chiediamo qualche minuto di pazienza, perfetto, allora le do... Adesso ci sentite? Buongiorno a tutti, bene, possiamo anche nel frattempo mandare avanti le slide così ho un supporto di visual stimulation. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi ad ascoltare questo racconto del metodo per l'innovazione digitale dell'APA. Io nel raccontarvi il metodo vorrei prima di tutto restituirvi principalmente quali sono le lezioni che abbiamo appreso in tutti questi anni di duro percorso di innovazione, gli errori da non commettere e i principali fattori critici di successo. Per fare questo partirò da una brevissima, andrò molto rapidamente sulle slide, tanto che sembrerà un cartone animato, la mission, la dimensione operativa e lo scenario globale. Perché questo? Perché per qualsiasi progetto di innovazione è fondamentale interrogarsi prima di ogni altro sviluppo su chi si è e su cosa si intende fare e soprattutto su quali sono le risorse a disposizione. Poi passerò molto rapidamente a raccontarvi quali sono i principali vincoli per d'ostacolo all'innovazione analizzando quelli che più imbrigliano l'innovazione, ovvero il quadro normativo che sapete meglio di me è stato quasi interamente disegnato per scambi di informazioni su carta. È un metodo anche per affrontarli e superarli. E infine, che è la parte principale del mio speech, qual è il metodo operativo di sviluppo e i fattori critici di successo che abbiamo riconosciuto come validi fino al momento? Allora, la mission delle dogane è molto semplice. Bisogna proteggere gli interessi fiscali di salute e sicurezza dei cittadini attuando le regole per favorire però lo sviluppo del commercio internazionale. Quali sono i principali vincoli che già ci imbrigliano nello svolgere questa missione e anche nello svolgerla in parallelo con gli sviluppi ICT e che anche i piani per lo sviluppo della dogana, chiamiamola elettronica, sono vincoli europei, quindi direttamente nel caso delle dogane la regolamentazione europea è direttamente applicabile. Quindi cosa dovremmo fare come dogane? Qual è la nostra principale missione? Spessa domanda, si deve porre qualsiasi ente o regolatore, qual è la mia principale missione? Nel nostro caso, è abbastanza chiara, dovremmo raggiungere una situazione per cui gli adempimenti doganali siano realizzati in modo completamente digitali e siano uniformi. Questi sono i numeri, solo per darvi un'idea della complessità operativa e se siete particolarmente curiosi su cosa fanno le dogane in dettaglio, sul portale dell'agenzia nella sezione focus innovazioni trovate una serie di filmati che illustrano la strategia generale e i principali progetti di innovazione. Allora andiamo avanti, nel definire un progetto di innovazione prima di ogni cosa, bisogna guardare al futuro perché l'ICT viaggia molto più rapidamente in questi anni di come viaggiava nel passato. Per cui, come abbiamo disegnato il nostro ruolo all'interno della strategia europea, fungendo da apripista per ogni progetto di innovazione. Questo perché ci dovevamo confrontare con un scambio a livello globale completamente mutato e questo perché noi ci rendevamo conto all'interno dell'agenzia che l'accelerazione della trasformazione digitale si era talmente intensificata ad arrivare a distruggere i modelli di business e a premiare soltanto il rinnovamento digitale. Quindi ci poniamo il problema dello stesso problema che deve porsi qualsiasi ente della pubblica amministrazione che intende innovare e di porre la propria strategia nel futuro dei prossimi anni guardando a come cambia rapidamente il mondo. Come abbiamo superato i vincoli normativi che derivavano dalla regolamentazione comunitaria e dai piani di sviluppo comunitario? Dando un ombrello alle nostre innovazioni nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea. Molte delle nostre innovazioni si poggiano appunto sullo sfruttamento di questi fondi e sulla leggida che ci viene dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo nel dare corpo e quindi sostanza ai nuovi processi che intendiamo utilizzare. Nell'ambito regionale, come dire, visto che parlo in particolare con la regione Sardegna, come si è aperto a tutti il webinar, parliamo anche dei vari piani operativi regionali di sviluppo dell'innovazione oppure di sfruttamento dei fondi di sviluppo regionale. Questo è l'esempio di un programma di interventi pluriennale che riguarda il piano operativo nazionale infrastrutture e reti che svilupperà dei progetti fortemente innovativi nell'ambito delle regioni obiettivo. Quindi noi che cosa facciamo? Nei progetti europei di ricerca e sviluppo, laddove le norme non ci sostengono, i piani di sviluppo comunitario ci imbrigliono, proponiamo, sviluppiamo e rendiamo operativi modelli innovativi che contribuiscono alla progressiva realizzazione della nostra strategia complessiva, di cui andrò a parlare tra poco, di Dogana 4.0. A questo si abbina anche il lodevole esercizio di avere sfruttato dei fondi unionali. Questo complesso di innovazioni ci ha portato a migliorare la reputazione internazionale del Paese, in particolare della Dogana, in quanto i rating internazionali ci classificano oramai dal 2016, in particolare in un importante rating internazionale, quello curato dalla Banca Mondiale e il rapporto Doing Business, ci collocano al primo posto dal 2016 per quello che riguarda l'indicatore Dogana. Diciamo che nella nostra elaborazione della strategia noi utilizziamo molto il confronto internazionale, sia perché come Dogana siamo per natura un ente che deve necessariamente essere estroverso, quindi parlare con molti Paesi del mondo. Noi abbiamo rapporti nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane con oltre 170 Paesi e ovviamente nell'ambito dell'Unione Europea con i Paesi membri 28-27 che dir si voglia se ci poniamo oggi o al prossimo futuro per quanto riguarda la Brexit. Quindi questi indicatori vengono poi utilizzati nell'ambito della nostra strategia come indicatori di efficacia dei progetti di innovazione che andiamo a realizzare. Allora qui entriamo nel merito. Per avere un'azione efficace di innovazione prima bisogna avere le idee chiare, quindi prima bisogna avere le idee chiare su qual è la strategia di sviluppo. Quali sono i cardini della nostra strategia? Non li ricordo a caso perché i cardini della strategia di sviluppo di Dogana 4.0 sono i cardini presi a bordo dalla dichiarazione sull'e-government di Tallinn dell'ottobre scorso. Quindi vuol dire che sono gli stessi cardini o come dire forse abbiamo precorso questi cardini che sono ricompresi nell'agenda digitale europea e nell'agenda digitale nazionale. Noi li abbiamo declinati un po' più in dettaglio. Allora qual è il primo compito di un ente regolatore? Qualsiasi cosa faccia oltre a esercitare la sua mission che in genere è di controllare che tutto si svolga in maniera regolare e sotto legge della legalità e della trasparenza. Fondamentalmente è costruire la crescita quindi come abbiamo fatto in modo che l'innovazione diventasse un driver di crescita? Quali sono i cardini che abbiamo utilizzato? Il primo è infrastrutture immateriali che forniscano dei servizi full digital a che cosa? Al platea degli utenti che vediamo in modo classerizzato cioè non forniamo servizi solo per le piccole imprese o solo per le grandi però abbiamo chiaro un master ovvero che questi servizi full digital siano tali da orientare il rinnovamento digitale soprattutto delle piccole imprese che costituiscono lo statura economica dell'italia ma anche dell'unione europea parliamo di oltre il 98 per cento delle imprese e che non siano però di ostacolo alle aziende che hanno già investito grandi medio grandi che hanno già investito nel rinnovamento digitale. L'altro aspetto è il paradigma once che vi racconterò con una slide successiva e poi guardare quindi al futuro. Qual è il futuro con cui ci troviamo a confrontarci tutti i giorni? Le nuove tecnologie che diffondono l'intelligenza artificiale ovunque quindi parliamo dell'internet delle cose che abbiamo ribattezzato come internet delle merci e delle nuove tecnologie emergenti in particolare delle blockchain. Once, il principio once è quello più importante, è quello che dovrebbe veramente informare l'azione di innovazione di ogni ente pubblico perché è necessario e indispensabile non più considerare al centro l'adempimento che deve essere reso verso una pubblica amministrazione perché bisogna invece mettere al centro le esigenze del cittadino e dell'impresa. Altrimenti il cittadino e l'impresa è considerato il veicolo dell'informazione e a cui vengono richieste sotto diverse forme ma dati fondamentalmente identici nella sostanza. Quindi per noi è un'esperienza assolutamente consolidata perché abbiamo avviato lo sviluppo dello sportello unico doganale dal 2003 che non è uno sportello unico in cui si inviano le informazioni per ottenere un'istanza in risposta a una licenza a un'istanza ma è un motore di cooperazione applicativa a cui partecipano tutte le amministrazioni in modo tale che l'impresa del cittadino non vengono più appunto considerati come veicolo dell'impresa. L'altro aspetto è basarsi, quindi guardare, impostare i nuovi servizi sulle nuove tecnologie, la frontiera che stiamo già non solo esplorando ma addirittura rendendo operativa e di fare in modo che le informazioni sul traffico delle merci ci vengano fornite dalle stesse merce. Anche nel settore ACITE che è uno dei nostri settori di intervento noi abbiamo già abbandonato la logica dell'adempimento per mettere al centro il processo di business. Questo porta a qualcosa di molto semplice, l'abolizione dei registri, fare in modo che le informazioni che servono all'agenzia delle dogane e che ci auguriamo servono tutte le altre amministrazioni che collaborano con l'agenzia delle dogane nell'ambito dell'assesso adempimento, siano trasmesse una volta sola ma soprattutto siano il sottoprodotto dell'attività operativa dell'impresa. Andiamo molto rapidamente a quello che avevo detto essere il cuore del mio intervento. Quindi chiederei se possiamo lanciare il primo sondaggio per capire nel vostro ambito un aspetto particolarmente di particolare rilevanza che noi abbiamo riconosciuto essere uno dei punti cardini per il successo di un progetto di innovazione. Io ho diviso in questo slide i fattori critici di successo in quattro categorie. La prima categoria è la categoria della governance in cui vorrei far notare che i progetti di innovazione devono essere fortemente sponsorizzati dal top management e affinché siano fortemente sponsorizzati dal top management prima che diffusi o condivisi a livelli più bassi, per creare una leva che garantisca l'efficacia di questa condivisione devono diventare gli obiettivi di performance dei dirigenti dell'agenzia. Per diventare gli obiettivi dell'agenzia che cosa accade? Accade che lo confronto con quella che è la mia esperienza, dal confronto della mia esperienza con le altre amministrazioni con cui lavoriamo nell'ambito dello sportello unico, l'altro fattore importantissimo per la governance è, come previsto dal codice dell'amministrazione digitale, che ci sia una direzione dedicata all'innovazione, un responsabile della transazione digitale. Perché è importante che ci sia? Perché è importante che in questo centro di imputazione di responsabilità siano accentrate delle funzioni di progettazione, di coordinamento e di monitoraggio dell'efficacia dell'azione. L'altro aspetto fondamentale è che il ciclo di programmazione e pianificazione condivida tutte le altre articolazioni dell'ente pubblico, nel caso dell'agenzia, sia condiviso con le direzioni di business. Proprio perché il gioco di squadra che noi aspettiamo nell'ambito del principio once per l'azione generalizzata nei confronti dell'utenza, venga prima di tutto svolto all'interno dell'organizzazione. Quindi diciamo che nell'ambito dell'agenzia delle dogane questo requisito è rispettato in quanto la direzione che ho l'onore di dirigere è completamente dedicata alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti di innovazione. L'altro aspetto fondamentale è che nell'ambito della governance ci sia una completa tracciabilità di ogni fase del progetto e una completa tracciabilità del contributo che deve essere assicurato dalle varie direzioni di business. Proprio perché nell'ambito di quello che noi chiamiamo un approccio ulistico alla gestione dei progetti debbono essere assolutamente considerate nell'impostazione della strategia non solo gli aspetti tecnologici o gli aspetti di comunicazione verso l'utenza, ma anche tutti i vari ambiti che riguardano gli aspetti organizzativi, quindi l'eventuale modifica all'organizzazione nell'erogazione dei servizi e gli aspetti giuridici, le eventuali modifiche alle norme, alle prassi necessarie. E cosa abbiamo fatto per rendere tracciabile e quindi proceduralizzare l'avanzamento dei progetti? Abbiamo sviluppato un proprio, un'applicazione per la condivisione e la tracciabilità di ogni fase. Diciamo che una delle parole d'ordine, non solo le parole d'ordine, possiamo chiamare un fattore critico di successo dei progetti di innovazione e di aver strutturato attraverso la rete e attraverso applicazioni la condivisione di ogni fase di sviluppo del progetto con strumenti appunto di tracciabilità sulla rete. Diciamo che l'applicazione che noi mettiamo a disposizione è un'applicazione collaborativa in cui secondo la logica di sviluppo di tutte le nostre applicazioni ogni team di sviluppo di progetto ha un suo ruolo e una sua responsabilità nell'ambito delle varie fasi che vengono strettamente appunto controllate e proceduralizzate. Sempre per andare in modo sistematico, come facciamo? Oltre a progettare un progetto deve poi essere, quindi deve essere prima pianificato, poi sviluppato. Un altro aspetto che ci contraddistingue dalle altre amministrazioni è di aver non solo tracciato ogni fase del progetto ma aver fatto in modo di verificare se quel progetto è utile, se quel progetto è capito, se quel progetto è metabolizzato sia dall'utenza interna che dall'utenza esterna nell'ambito di un sistema di interazione con l'utenza che replica esattamente il sistema di produzione, il sistema di esercizio. Quindi abbiamo molto investito in un sistema di adressamento e validazione a cui sono chiamati, in cui gli stakeholder, quindi gli utenti esterni e gli utenti interni e le altre amministrazioni qualora sia necessario coinvolgerle nei servizi erogati, provano, hanno proprio una palestra di test che consente loro di verificare in dettaglio come possono integrarsi con il sistema dell'agenzia delle erogazioni. Poi se su questa parte è molto tecnica, vedo sulla chat delle domande specifiche sono assolutamente disponibili a rispondere in interesse. L'altro aspetto fondamentale della nostra organizzazione è di aver costituito proprio sul territorio delle task force territoriali che sono coordinate dalla task force centrale e che hanno appunto il compito di supportare lo sviluppo e l'attuazione dalle innovazioni. Lo sviluppo perché li consideriamo come il termometro delle esigenze degli stakeholder interni e esterni, servono proprio come da sonda sul territorio e sull'attuazione perché forniscono nelle fasi di execution del progetto e di attuazione del progetto la necessaria assistenza ai stakeholder interni e esterni e questo poi per ogni progetto. L'altra parola d'ordine è inclusione di tutti gli stakeholder nella condivisione delle strategie e dei piani operativi. Abbiamo quindi strutturato dei tavoli permanenti che vengono regolarmente convocati anche su richiesta degli stakeholder esterni e interni in cui diamo conto di qual è l'evoluzione della nostra strategia e raccogliamo appunto l'eventuale critico e eventuali suggerimenti sulla nostra strategia e condividiamo i piani operativi. Se su questo volete avere maggiori informazioni, sul portale dell'agenzia c'è una sessione dedicata ai tavoli tecnici permanenti dove potete quindi cogliere con più dettaglio cosa facciamo e come lo facciamo. Come avviene l'inclusione degli stakeholder in modo non solo sistematico ma in modo capillare. Come avevo appena accennato nell'ambito della categoria governance abbiamo molto investito in un ambiente dedicato alla testa e alla validazione dei nuovi processi digitali che è aperto agli utenti interni e esterni. Questo che cosa si consente di fare? Si consente di realizzare uno dei cardini della nostra strategia ovvero l'approccio sul digital. Se forniamo servizi sul digital alle imprese vuol dire che le imprese dovranno integrare il loro ciclo operativo e i loro sistemi aziendali con il nostro. Quindi hanno necessità di verificare che i nuovi processi siano integrabili sul loro sistema e che quanto hanno fatto per adeguare i loro sistemi poi funzioni. Quindi su questo esiste proprio un ambiente dedicato al testa e alla validazione che ci consente anche di misurare prima del click day l'impatto dei nuovi processi digitali, quindi l'impatto dell'innovazione con una profondità che qualsiasi questionario non potrà mai fornirci perché abbiamo su questo appunto proprio una replica di quello che sarà il sistema in operativo e che quindi si consentirà di verificare se eventualmente le procedure che abbiamo messo a disposizione non siano particolarmente efficienti ma anche ci permetterà di verificare se l'informazione che abbiamo fornito a supporto o la formazione che abbiamo regato non è stata sufficiente ovvero la platea non è ancora matura per poter utilizzare questi processi in operativo senza ricadute negative sull'operatività. Un altro aspetto che riteniamo di grande importanza e che viene molto apprezzato dalla platea degli stakeholder è che la normativa di attuazione viene prima di tutto sviluppata soltanto viene prodotta soltanto dopo aver verificato che i nuovi processi raggiungano lo scopo per cui sono stati progettati e quindi le istruzioni procedurali e operative sono dai nostri team di progetto sviluppati a spirale mano a mano che i progetti procedono nello sviluppo. Quando si arriva alla definizione di questo insieme di nuovi processi il risultato finale delle istruzioni procedurali e delle istruzioni operative e quindi fondamentalmente della normativa che viene poi diramata dall'Agenzia ha un valore esclusivamente ricognitivo ovvero le norme a supporto e le istruzioni operative di nuovo processo sono ricomprendono tutta la normativa precedente ovvero non costringiamo i nostri utenti sia interni che esterni a un confronta verifica come ha detto la circolare x come la disposizione y l'ultima disposizione è il libretto di istruzioni da un punto di vista normativo e da un punto di vista operativo sui servizi che vengono erogati l'ultimo è quello buono. L'altro aspetto fondamentale è che ci appoggiamo sempre a sistemi ICT per verificare e monitorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi. Ovvero il nostro sistema di CRM in cui passo subito in dettaglio su una lezione che abbiamo imparato. Vale molto di più un sistema di CRM basato su comunicazioni via mail che è un sistema di CRM basato su un helpdesk vocale perché perché l'utente che deve fornirti una critica o deve rappresentarsi un problema se lo rappresenta per iscritto si chiarisce già le idee rispetto al suo problema. Consente a noi di dare delle risposte più rapide ed efficienti proprio perché possiamo più di qualità perché possiamo saltare diciamo la fase di prima accoglienza del quesito per passare direttamente a una fase di una risposta di secondo livello con quindi tecnici ed esperti che conoscono in dettaglio il problema che viene posto. Ma soprattutto un sistema che ci consente la tracciabilità di quello che viene chiesto e di come viene chiesto raccontato direttamente dall'utente ci consente di analizzare insieme le richieste che pervengono e di monitorare quindi l'efficacia dei servizi e di capire se le eventuali inefficienze derivano da un cattivo funzionamento delle applicazioni, da una carenza di formazione che a volte è una pigrizza di formazione informazione da parte dell'utenza ma anche su questo si introducono delle azioni correttive o da una carenza di informazione. Quindi come vedete anche qui un approccio assolutamente olistico su quelle che sono tutte le componenti, tutti gli ambiti di intervento di qualsivoglia progetto, io non dico soltanto un progetto di innovazione, un qualsivoglia progetto che introduce al cambiamento a necessità di essere visto in tutti gli ambiti considerando tutte le esigenze degli stakeholder in modo strutturato. Procediamo con l'altro blocco di categorie dei fattori critici di successo. Qual è il metodo che abbiamo adottato? Il metodo è l'adozione diffusa di tecniche di project management e di business process management o se preferite di business process re-engineering. Quindi vuol dire che dietro c'è un grande lavoro di formazione e un grande lavoro di diffusione all'interno del nostro capitale umano, in particolare della nostra direzione, di tecniche avanzate per la gestione dei progetti. E aver adottato un metodo operativo per la definizione di ogni progetto che è lo stesso che abbiamo adottato in occasione della re-ingegnerizzazione del sistema informativo doganale, quindi nell'impostazione di quello che è il cuore dell'innovazione, il sistema cuore dell'innovazione dell'agenzia delle dogane, ovvero il sistema AIDA. Cioè per ogni progetto noi andiamo a definire in collaborazione anche con gli stakeholder e classerizzando gli stakeholder, cioè dividendoli in classi che si consentono appunto di capire quali sono le loro effigenti. Nel esempio, le dividiamo in classi per quanto riguarda la dimensione aziendale, per processo di business, per core business, ma per ogni progetto andiamo quindi a definire qual è la situazione esistente, quindi qual è la fase di quella che noi chiamiamo l'esisa, il com'è, e andiamo a definire qual è il processo ottimale, quindi il to be, e poi andiamo a definire quali sono le tappe di avvicinamento al processo, al processo finale, al to be, al processo ottimale. In quest'ambito, come vedete, è un lavoro che richiede un particolare impegno e uno sforzo corale, come vedete, di tutte le componenti dell'organizzazione, noi andiamo a individuare con dettaglio le modifiche normative da proporre o da attuare. Le modifiche normative che, come dicevo all'inizio, all'introduzione del mio speech, sono uno dei particolari, uno dei maggiori ostacoli, sono quelli che mettono più brilli all'innovazione, quindi identifichiamo le modifiche normative da proporre, le modifiche organizzative e le azioni di formazione. Anche sulle azioni di formazione lavoriamo molto sulla rete, proprio nel momento in cui abbiamo progettato nel 1999 il nostro sistema informativo AIDA, che annuncia che è in forza di parziale ingegnerizzazione proprio per adeguarlo a quelli che sono i cambiamenti e l'accelerazione del cambiamento dovuto alla digital distraction. Quando abbiamo impostato questo nuovo sistema, abbiamo dedicato una grandissima parte alla formazione e informazione degli utenti interni e esterni. Sempre se volete scendere in profondità su questi temi, sul portale dell'agenzia, trovate l'e-learning academy che vi dà un'idea di come ridiffondiamo la formazione e informazione presso l'utenza interna e esterna e come ci apriamo all'utenza esterna con corsi di formazione migratoria. È importante ricordare che ogni qualvolta individuiamo nell'analisi l'impatto che conduciamo per l'introduzione di ogni innovazione, individuiamo delle aree critiche per quanto riguarda la formazione e informazione e interveniamo con una campagna di formazione e informazione ancora più intensa. Quindi vuol dire che, quello che intendo dire e quello che intendo maggiormente sottolineare, è che alla base di questa erogazione e informazione, noi utilizziamo con più intensità la modalità e-learning perché ci consente di ovviare a due inconvenienti. Prima di avere certezza della qualità dell'informazione che viene, della formazione che viene erogata, cioè dei contenuti della formazione. In un corso e-learning i contenuti della formazione sono definiti, sono uniformi e l'altro aspetto è che si può erogare la formazione in modo capillare e secondo i tempi di apprendimento e che ogni utente interno e esterno, ogni utente ritiene più opportuno. Io vedo sulla chat una domanda che mi intriga molto perché mi dà, come dire, il polso di quanto ho comunicato fino adesso con il mio speech. Trovo una domanda che riguarda come avviene la condivisione ai livelli di compiti, incontri, videocomerenza, formazione. La condivisione è fortemente strutturata. Allora, condivisione con gli utenti esterni e in primo luogo con il tavolo tecnico i customs o digitalizzazione accise e in cui vengono invitate a partecipare tutte le associazioni di categoria. Quindi siamo a un livello molto alto in cui si imposta la strategia. Poi, a seguito di questo tavolo tecnico, vengono sviluppati dei team di sviluppo dei progetti che sono inquadrati nell'ambito della proceduralizzazione di cui avevo parlato. Torniamo un po' indietro con le slide, così chiariamo meglio questo aspetto. Quando parlavo di governo proceduralizzato dei progetti supportato da un'applicazione vuol dire che noi abbiamo una strategia complessiva in cui si inquadrano tutta una serie di progetti, quindi abbiamo una strategia complessiva pluriennale e dei piani di attuazione annuale. Nell'ambito della strategia noi individuiamo appunto i progetti, ogni progetto è affidato a un team di progetto, a ogni team di progetto è assegnato uno responsabile, un coordinatore e il team di progetto è composto delle varie componenti dell'agenzia, al team di progetto partecipano rappresentanti del territorio, delle task force per esempio territoriali e in alcuni casi anche rappresentanti degli utenti. Se c'è necessità di approfondire dei particolari aspetti con una particolare categoria di utenti sono previste appunto delle riunioni di gruppi dedicati proprio all'approfondimento di alcuni temi o di alcuni punti aperti. Se questo non fosse chiaro guarderò sulla chat se c'è necessità di ulteriori approfondimenti. Allora, mi interessa molto ribadire la necessità di avere appunto non solo un metodo basato su tecniche di project management ma un metodo operativo che si svolga in queste tre fasi, ovvero situazione attuale, l'ottimale situazione a regime e le varie fasi di avvicinamento. Perché questo, perché enfatizzo questo aspetto? Perché in ognuna di queste fasi va riapplicato il metodo listico, ovvero al centro del cittadino e all'impresa che andrà considerato quindi come il principale portatore di interesse a cui non solo l'agenzia delle dogane ma anche tutte le altre pubbliche amministrazioni che a vario titolo incidono sullo sviluppo di quel progetto dovranno appunto considerarne le esigenze e fare in modo che si razionalizzino i flussi informativi affinché appunto l'utente possa ingiare le informazioni una sola volta e ottenere il più possibile una sola risposta che sia la risposta che deve dare l'intera squadra della pubblica amministrazione. Quindi nell'ambito del deciso del TUD e del TURAN si considerano le esigenze dell'utente in relazione a tutti gli addentimenti che avrebbe dovuto rendere verso tutte le altre pubbliche amministrazioni che con l'area ingegnerizzazione del processo adesso renderà ad una sola. L'altro aspetto fondamentale è che la condivisione non solo delle SIS ma soprattutto del TUD e del TURAN venga fatta con tutti gli stakeholder interni e esterni anche perché la definizione del TUD e del TURAN che cosa determina? Determina fondamentalmente la distanza, il tempo e le risorse necessarie a raggiungere il TURAN perché la distanza tra il TURAN e tra il TUD e le SIS ci indicherà quanto tempo è necessario e quante fasi di sviluppo saranno necessarie per poter raggiungere l'ottimo definito sui TUD. Quindi, ripeto, le tecniche fondamentali alla base del project management che cosa dicono? Devi definire chiaramente una strategia. Definire tutte le fasi di sviluppo. Tutte le fasi di sviluppo vengono appunto definite nell'ambito della distanza tra le SIS e il TUD. Quindi sono le varie fasi del TURAN. Nell'ambito di ogni fase di un TURAN bisognerà avere assolutamente chiaro se si hanno le risorse a disposizione, quindi le risorse da impiegare e quali siano le azioni di formazioni capillari da erogare per poter appunto essere certi, in due parole, che il progetto sia utile e che tutti lo sappiano utilizzare. Fondamentalmente si tratta di applicare, in ogni fase del progetto, il ben noto ciclo di DEMING. La novità o la particolarità che contraddistingue D'OGAN è di non averlo lasciato a livello di auspicio, ma di averlo formalizzato all'interno appunto di un metodo operativo per la gestione del progetto. L'altro aspetto su cui vorrei assolutamente enfatizzare è che la struttura dei progetti deve essere modulare e deve essere valutata, la struttura dei progetti che compongono una strategia, deve essere costantemente valutato il rischio del progetto, anche in relazione all'interdipendenza che ogni progetto può avere con un altro. Quindi è un lavoro, come dire, di governance molto impegnativo, alle quali applicando le tecniche del project management si riesce a mettere rimedio con una certa sicurezza. Quindi ridurre il rischio del progetto significa monitorarlo costantemente, in ogni sua fase, in ogni suo aspetto, e monitorare costantemente questo spazzo di progetti che portano, o questo insieme di sottoprogetti, che portano alla realizzazione della strategia di digitalizzazione. Qual è l'ultima categoria di fattori critici di successo, secondo la nostra visione, riguarda le risorse umane. Le risorse umane interne, ma noi consideriamo anche risorse umane, in quanto lavoriamo in stessa partnership con l'utenza esterna, anche i nostri utenti, li consideriamo come degli alleati nella nostra missione di digitalizzazione, in quanto quanto noi proponiamo come servizi innovativi, come vi dicevo nella slide che raggruppava i cardini della nostra innovazione, devono essere riconosciuti da loro come servizi innovativi che favoristano la crescita digitale e quindi anche la crescita del Paese. Allora, come vedete, è fondamentale e importante la condivisione della visione a tutti i livelli e ovviamente rappresentata come condivisione a secondo ovviamente della platea a cui si rivolge. Quindi ci sarà una condivisione della visione con strumenti adatti all'associazione di categoria, una condivisione della visione con strumenti e comunicazione adatta all'utenza interna, agli uffici o alle piccole e medie aziende, ma è importante che ci sia questa condivisione e l'edizione perché se si vuole realmente introdurre il cambiamento occorre che il cambiamento sia prima di tutto condiviso negli obiettivi di lungo periodo perché l'obiettivo di lungo periodo si deve poi tradurre in azioni attuative di breve periodo che debbano essere appunto condivise progressivamente. L'aspetto è importante, come motiviamo il nostro personale? In carenza di strumenti motivazionali nell'ordinamento, noi in pubblica amministrazione non abbiamo molti strumenti motivazionali, anzi diremo che sono quasi assenti a differenza di quello che può essere fatto nel privato, o ne abbiamo diciamo con poche possibilità di… sono poco flessibili e poco utilizzati. Diciamo che la motivazione in carenza di questi strumenti motivazionali viene sostituita dal continuo confronto con altre organizzazioni e con lo spirito di appartenenza. è chiaro che se appartiene a un'organizzazione che porta dei risultati che tu riconosci nel quotidiano, è più facile lavorare in carenza di strumenti motivazionali. Al continuo confronto, questa è una particolarità dell'Agenzia delle Dogane, con altri stati, membri, altri organismi, organismi europei, cioè poter rappresentare che la tua organizzazione in un determinato ambito riesce a portare determinati risultati costituisce anche una leva motivazionale. L'altra leva motivazionale è dare dei contenuti del lavoro ad alto contenuto innovativo e ad alto contenuto professionale. In questo la formazione specialistica del personale dedicato all'innovazione riveste un luogo assolutamente fondamentale. E non dimenticare mai di porre un'attenzione sulla formazione continua per tutto il personale sulle innovazioni introdotte, questo perché se ci si sente parte di un'organizzazione che introduce il cambiamento, è necessario che il cambiamento venga poi portato a livello capillare sul territorio e a contatto con gli utenti. Allora, io posso divertirmi a leggere qualche domanda sulla chat, magari non ho utilizzato tutto il tempo a mia disposizione, ma credo che siamo quasi agli sgoccioli, perché osservando le domande che vedo arrivare sulla chat, credo che ci sia bisogno di qualche approfondimento su qualche tema. Sì, dottoressa, in particolare si sta discutendo adesso in chat sul fatto che il problema è che molte attività di innovazione vengano normate ad invarianza di spesa, insomma. Qualcuno dice che fare innovazione senza spesa risulta molto difficile per tutti gli enti e questo quindi direi che è un tema del quale si sta discutendo in chat. Però poi qualcuno, Angelo Pilotto, aggiunge che ci sono delle metodologie applicative per innovazioni che non comporti in eccessivi impegni di spesa, quindi insomma questa è proprio un'osservazione. Direi questa è l'osservazione principale, poi ad altre domande le ha dato risposta, si parlava ad esempio di cosa volesse dire motivazione in carenza di strumenti motivazionali nell'ordinamento, quindi ha risposto. In relazione invece alla riduzione del rischio di progetto, Gian Piero Podda chiedeva se ci si riferisse al ciclo di damming. Damming. Il ciclo di damming, vero? Sì, esatto, il ciclo di damming. Perfetto, quindi non so se vuole rispondere su questa osservazione dell'innovazione senza spese, che direi è una cosa... Innovazione senza spese è un paradosso, non si può fare l'innovazione senza spendere. In parte ho detto come rimediamo nelle slide che riguardavano i progetti di ricerca e sviluppo e la risposta sia a come si possa ovviare alla mancanza di risorse con dei buoni progetti finanziati dai fondi unionali. C'è su questo molto da fare in Italia. e magari creando delle partnership con aziende e anche altri organismi pubblici che questi fondi sono in grado di sfruttare. Questo è il primo tema. Sul fatto che non si possa spendere, io dico che bisogna spendere meglio, perché i fondi per l'innovazione ci sono e che bisogna meglio indirizzarli. Posso sintetizzare la mia risposta con quella che è il mio cavallo di battaglia, cioè anche nell'ambito dell'impiego delle risorse e dell'impiego dei fondi, bisognerebbe sempre pensare al paradigma 1. Prima non reinventare mai la ruota, guardarsi intorno e vedere se qualcuno ha già sviluppato. Questo è già tutto scritto nel codice dell'amministrazione digitale. Quindi la necessità del riuso, di mettere a disposizione delle altre amministrazioni non solo le buone pratiche, ma anche le buone applicazioni. Noi siamo assolutamente disponibili a mettere a disposizione la nostra applicazione per la proceduralizzazione dei progetti, che si chiama PM Agenda, quello è il suo nome, ma è di tutta evidenza che per poter utilizzare quell'applicazione bisogna prima di tutto strutturare l'organizzazione affinché la possa utilizzare. Cioè, l'applicazione PM Agenda non è una bacchetta a mano. Dietro c'è organizzazione, impegno del top management, collaborazione con le altre amministrazioni. E permettetemi di dire una grande tenacia, perché la resistenza all'innovazione è qualcosa che si ripropone, non è solo resistenza all'innovazione, io la chiamerei resistenza in genere a cambiare le abitudini, quindi a cambiamento. È qualcosa che comunque si ripropone. Su questo bisogna essere fortemente corattati, costruirsi un'organizzazione intorno e avere persone che lavorano con te e che credono assolutamente in quello che stai facendo. Abbiamo altre domande? Allora, c'è un'altra domanda, questa di Nazareno Principalli. avete utilizzato strumenti particolari per la modellazione dei processi dall'ASIS2B fino al TURAM? Questa. Allora, modelli particolari, all'inizio dello sviluppo del sistema IDA abbiamo utilizzato quello che allora era di meglio, ovvero la modellazione dei processi basata sulla teoria degli atti linguistici di InnoCloud Forest. Adesso utilizziamo delle tecniche di mappatura dei processi basati sul BPMN, Notation Business. Perché utilizziamo? Perché abbiamo, dopo una lunga battaglia, abbiamo ottenuto che anche a livello di Unione Europea nello sviluppo delle disposizioni di applicazione del codice finalmente si ragionasse prima in termini di processo e poi in termini di norma. E quindi, anche nell'ambito del codice doganale, questa è stata una battaglia tutta italiana, nell'ambito del codice doganale vengono, prima sviluppati, con queste proprio attente rappresentazioni, con mappe di processo, i processi che poi andranno a costituire le disposizioni di attuazione. Proprio per verificare prima quello che è alla base di ogni indicatore di efficacia del progetto, la praticabilità operativa. Altre domande? Mi pare che il momento, per il momento non ce ne sono, qualcuno aggiunge che è importantissima la motivazione di tutti gli attori del processo, altrimenti diventa fantascienza. Ci sono moltissimi ringraziamenti per la chiarezza dell'esposizione, aggiungo in particolare anche per l'enfasi e la partecipazione con cui lei ha espresso questi concetti. Ora siamo in chiusura, chiedo in particolare ai partecipanti del corso di non scappare, ci saranno tre minuti di comunicazione di servizio da parte di Rita Solina tra lo strato sulle attività ancora attive e in chiusura. Io non lo so, è impossibile fare una sintesi di quello che ci ha detto o commentarlo anche perché ha dato moltissimi contributi, la ringrazio davvero perché al di là dei materiali si vede che è un aspetto molto sentito e non è evidentemente un caso che l'agenzia delle dogane risulti davvero una buona pratica. Quello che mi viene da dire forse per aggiungere qualcosa rispetto alla discussione che si sta facendo nel corso delle soft skill per l'e-leadership è quello che ho sentito in base a quello che ci sta raccontando è che sicuramente si percepisce intanto una grande attenzione a una vera condivisione del cambiamento negli obiettivi di lungo periodo e si percepisce davvero in tutto quello che ha detto una vera attenzione alla condivisione non un dire che bisogna stare attenti una vera attenzione a tutti gli stakeholder mi pare che in tutto il suo discorso anche il fatto di considerare tutte le iniziative o i confronti con l'Unione Europea con gli altri stati con le altre situazioni sia nella vostra esperienza una costante un confronto e questo vi permette sicuramente di avere una spinta di partenza però vi permette come dire di stare realmente nel mercato attraverso il confronto con gli altri e di dare anche motivazione secondo me come diceva lei questo fornisce la motivazione anche alle persone anche al gruppo di lavoro capire che si fa parte di qualcosa che sta avvenendo che è condiviso rispetto a cui si sta lavorando si sta ragionando cioè non siamo atomi singoli non lanciati un po' nello spazio perché questo fa capire perché vanno fatte certe cose e spesso è molto difficile soprattutto nella pubblica amministrazione in cui l'altra cosa che volevo dire in cui spesso è la normativa che guida ora rispetto a questo il fatto che lei abbia detto che per voi la normativa arriva dopo aver sviluppato i progetti e non è un driver di cambiamento non è quello che dà lo spunto a cambiare io mi rendo conto che per molte persone qua oggi come dire rappresenti un po' una differenza certamente bisogna essere dei bravi degli ottimi leader per dire una cosa del genere soprattutto per farla nel senso che è difficile nella pubblica amministrazione non considerare la normativa non è possibile come diceva lei ci imbriglia però se noi la normativa la facciamo diventare la facciamo anche sviluppare al termine o durante i processi di cambiamento e soprattutto se non consideriamo che la comunicazione passi attraverso i regolamenti e le direttive questo è già un grande punto di forza quindi un e-leader che sappia anche considerare la normativa qual è cioè non può essere ignorata ma non può essere lo strumento di comunicazione come spesso invece sappiamo sappiamo che succede quello poi che lei ha detto sull'attività di learning che fate per noi è un come dire ci fa ci fa molto piacere perché noi come lei sa lavoriamo molto su questo questi corsi che stiamo facendo per la regione Sardegna sono interamente in e-learning i nostri partecipanti ormai lo sanno da un anno e mezzo partecipano a questi corsi è un'attività nella quale crediamo molto e crediamo che stiamo come dire provando a lavorare anche con diverse amministrazioni perché anche loro possano utilizzare l'e-learning come strumento di attività formativa che al di là di tutto permette sì di raggiungere grandi numeri di omogenizzare anche una formazione di base e per poi essere integrata con altri strumenti che sicuramente ci diceva lei avete cioè non che non debbano più esistere riunioni videoconferenze e attività in presenza ma insomma l'e-learning permette comunque di agevolare anche i processi di cambiamento per fare una condivisione quindi la ringrazio molto continuano gli apprezzamenti da parte dei partecipanti quindi grazie a voi noi abbiamo grandi sogni ma andiamo avanti a piccoli passi comunque cerchiamo di accelerare il cambiamento dottoressa questa è una allora grandi sogni e piccoli passi un'altra delle citazioni che noi in futuro faremo lei sa che d'ora in poi abbiamo iniziato quindi una sece di collaborazione abbiamo iniziato in pratica una collaborazione dalla quale lei non si libererà ci servono tutte queste cose proprio per la nostra riflessione sull'e-leader allora